Una vittoria sudata è sicuramente meritata, ma è un successo che all'Avezzano lascia un po' di amaro in bocca, perché i 45 punti conquistati sul campo non sono bastati per ottenere la salvezza senza far ricorso agli spareggi. A ben guardare, sarebbe stato sufficiente anche non aver perso qualcuna delle nove gare interne che hanno visto i biancoverdi soccombere anche contro avversari modesti, ma questo fa parte del senno del poi, quello del quale si dice che siano piene le fosse. E allora, come ha detto Colavitto a fine gara, testa bassa e lavorare ancora per raggiungere quella permanenza che a metà campionato sembrava quasi definitivamente tramontata. Si inizia con questo tiro cross di Di Nicola che si perde di poco alto al sesto minuto. La replica ospite è in questo lancio per Tomassini che Besana non controlla a dovere, ma Fanti dimostra ancora una volta la giusta reattività e devia in angolo. In campo il Pineto si conferma più squadra e un minuto dopo i Marsicani rischiano grosso quando la difesa va in affanno lasciando a Tomassini e Cruz la palla per il vantaggio, sventata ancora una volta da San Federico che ci mette la classica pezza a colore. E passiamo al ventunesimo quando Manari imbuca per Padovani che però non riesce a sfruttare la buona opportunità. Ventiseisimo destro di Cruz dalla distanza che termina alto, mentre si nota che in mezzo al campo Amadio e Marianeschi continuano a farla da padroni. Palla buona, anzi buonissima anche per Manari al quarantunesimo, ma il destro alla del Piero del numero 10 è troppo largo e la sfera si perde sul fondo. Tutto qui il primo tempo, mentre nell'intervallo i tifosi incominciano a fare i conti su chi sarà l'avversario per lo spareggio. Si ricomincia e al quarto Tomassini sballa la mira con questo tentativo di destro a giro. Passano altri due minuti e Grazioso imbuca per Padovani che avanza in corridoio e conclude, ma Amadio devia col piede e annulla la palla gol dell'Avezzano. Ottavo minuto, Grazioso per Bruni che di testa spizza per Padovani che controlla e in diagonale manda la sfera a sfiorare la base del montante più lontano. Undicesimo, errore di De Roccis, purtroppo non l'unico e sul cross dal fondo Fanti rischia la capitolazione e si arrabbia col più giovane compagno. Poi seguono 25 minuti praticamente di niente, con le due squadre che sembrano accettare il nulla di fatto, ma al 36esimo l'Avezzano passa. L'azione nasce da un calcio di punizione che crea scompiglio in area pinetese, dove Di Nicola non riesce a girare verso la porta, ma sulla palla in uscita, Grazioso inventa una parabola che non lascia scampo al subentrato Shiba. La sfera si adagia sotto l'incrocio più lontano e al De Marzi iniziano i festeggiamenti. Ma per i tifosi di casa c'è ancora da soffrire un po'. È infatti il 44esimo, quando su un cross dalla destra la palla sfila via pericolosamente sotto lo sguardo preoccupato del capitano Fanti. Adesso l'ultimo pensiero dei biancoverdi si chiama Sant'Arcangelo, un avversario non irresistibile sicuramente, ma non è una novità che gli spareggi nascondono sempre tante insidie e guai a fare affidamento al solo pareggio, perché basterebbe un non nulla per rovinare tutta una stagione. Grazie.